Il mese di novembre è stato il mese della prevenzione dei tumori al seno organizzato dall'equipe medica dell'oncologia di Fano diretta dal dottor Rodolfo Mattioli in collaborazione con l'associazione Fior di Loto, donne operate al seno e non. Gli operatori dell'oncologia hanno accolto presso gli ambulatori della struttura tutte le donne che volevano sottoporsi allo screening. In questo ambito la prevenzione rimane in assoluto l'arma migliore che avete a disposizione voi e che hanno a disposizione gli utenti, possiamo dire, le donne in questo caso. La sua osservazione è profondamente vera. Nell'ambito dell'oncologia medica noi siamo riusciti a ottenere dei grossi risultati impensabili. Io quando sono entrato in oncologia 34 anni fa avevamo a disposizione pochi farmaci, forse non sapevamo neanche come utilizzarli bene. Tanta strada ne abbiamo fatto per il tumore della mammella. Curavamo con due o tre farmaci tutte le donne e adesso siamo riusciti a trovare delle terapie personalizzate. Forse non parliamo più del tumore della mammella ma di quattro tipi diversi di tumore della mammella con quattro storie naturali, con quattro prognosi ma anche con quattro profili terapeutici diversi. Però quello che lei dice rimane alla base di tutto. Non ha senso curare un malato perché la diagnosi è tardiva, perché non si è fatto nulla per prevenire quelle lesioni che possono diventare tumore. Noi con la diagnostica precoce riusciamo ad asportare piccole lesioni che non sono tumori. In altri casi riusciamo a togliere delle lesioni, mi riferisco ai polipi intestinali che potrebbero diventare delle forme tumorali. Per cui noi con la prevenzione primaria e secondaria riusciamo a non far ammalare un malato di patologia tumorale e quando questo lo si ammala il diagnosticarlo in tempi diciamo iniziali permette a lui la guarigione assoluta. Dottor Mattioli nel territorio si è avuto una iniziativa molto importante alla quale voi avete aderito con grande interesse e con grande attenzione. La proposta che ci ha fatto l'associazione Fiori di Loto con cui già abbiamo collaborato anche in altre occasioni sotto la guida della signora Lida Battistelli per noi è stata una cosa che ci ha fatto molto piacere. Tutta onestà abbiamo partecipato anche nel mese precedente all'iniziativa della Lega Italiana per la Lota Contro i Tumori che notoriamente dedica un mese, il mese di ottobre, alla prevenzione. Per cui poter replicare a Fano per l'utenza dell'intera provincia anche se prevalentemente della città l'iniziativa in collaborazione con l'associazione di volontariato di donne operate al seno e non direi che ci ha fatto enormemente piacere. Anche perché abbiamo avuto la possibilità di vedere circa 200 persone, soprattutto giovani e donne che sono un po' escluse per criteri anagrafici da quello che è il percorso dello screening mammografico. Per cui educare le giovani donne all'autopalpazione, educare a un criterio di prevenzione, a essere attenti al proprio corpo e ai propri sintomi, direi che è un messaggio culturale che va oltre le semplici visite oncologiche che abbiamo fatto in questo mese. Allora, parliamo di questa associazione che è così attiva sul fronte femminile della prevenzione. Allora, innanzitutto l'associazione è molto giovane, siamo nati solo da due anni e comunque devo dire che grazie veramente all'intervento dei medici, perché soprattutto il dottor Macchioli e anche altri medici che hanno creduto in noi, stiamo veramente avendo successo, tra virgolette, perché vorremmo non averlo, perché ovviamente la patologia sarebbe bene sconfiggerla, però purtroppo finché ci sono tumori, è bene che qualcuno magari si occupi anche di queste donne che hanno il problema, che purtroppo non è solo un problema dal punto di vista fisico, ma è anche un problema dal punto di vista morale, perché viene praticamente diciamo proprio sconfitta la femminilità, perché tanto perdere un seno insomma non è una cosa da poco. E quindi noi abbiamo come associazione, praticamente facciamo un recupero psicofisico, perché abbiamo delle psicologhe, abbiamo, facendo gli incontri poi di automutuo aiuto, perché le persone, le donne, le volontarie, sono generalmente persone che hanno avuto la patologia tumorale, per cui parlare con una persona che ha già affrontato il problema e l'ha già superato, per chi lo deve affrontare, c'è un po' più di speranza e più di fiducia ovviamente, perché lo affronti in maniera più leggera, meno drammatica. E quindi però oltre ad avere questo aspetto, noi curiamo molto la prevenzione, perché siamo convinti, come ha già detto il dottor Mattioli, che prevenire è una cosa importantissima. Io nel mio caso, però dalla mia esperienza personale, non avessi fatto prevenzione, probabilmente non sarei stata qui a parlare con lei. E quindi ho scoperto il mio tumore proprio dopo dieci anni di mammografia, ecografia, eccetera, e ho avuto purtroppo una demolizione della... però in ogni caso sono qui a parlare, questo già per me è una conquista, e questo ovviamente grazie alla ricerca, grazie a tutto quanto. E nell'ambito di questa, diciamo, promozione che c'è stata, di questo evento, devo ringraziare innanzitutto il dottor Mattioli, con tutta l'equipe medica, infermieri, che sono stati bravissimi, che hanno lavorato veramente tanto, anche perché visitare 200 donne in due giornate, insomma, poveretti, hanno veramente lavorato solo. E di questo ne sono veramente grata e sono contentissima di questo. Poi un altro ringraziamento, e dovrei farlo, è al dirigente scolastico dell'Istituto Artistico Apolloni, perché ha aperto le porte della loro scuola alla nostra associazione. Nell'ambito di una rassegna cinematografica e fatta dall'organizzata dell'Associazione Liberamente ed Elettra, abbiamo lì parlato di prevenzione ai ragazzi dell'ultimo anno di questa scuola. E questi ragazzi hanno fatto un progetto sulla prevenzione, su quello che gli è stato detto, su quello che gli ho detto, e ci hanno regalato un quadro. E quindi di questo io veramente sono molto felice. Volevo ringraziare, infatti, a quella preside, gli insegnanti ed anche i due ragazzi che hanno fatto quest'opera, questo bellissimo quadro, che è un tridimensionale, e sono Laura Tricarico e Federico Andreoni. Poi volevo anche leggere una cosa che loro hanno scritto in fondo a questo quadro, perché secondo me è significativo, vuol dire che il messaggio è arrivato. Questo lo leggo perché non voglio sbagliare. L'opera mostra l'origine della prevenzione, da dove deriva la forza e la volontà di coloro che provengono dall'esperienza del male, che conquistano una condizione di autocoscienza e sono in grado di offrirla agli altri. È un elogio al coraggio di queste persone. E ringrazio tanto i ragazzi per queste bellissime parole. Un aspetto importante che svolge la vostra associazione è quello proprio di cerniera, tra la ripresa della vita quotidiana e l'uscire da un rebound psicologico che la paziente purtroppo ha a seguito della sua patologia. Dicevo, infatti sì, infatti come dicevo, la nostra associazione è una associazione socio-sanitaria, perché è socio, perché praticamente veramente diffondiamo la cultura, la prevenzione e questo lo facciamo attraverso convegni, attraverso questa iniziativa che è stata fatta con il dottor Mattioli. In più noi facciamo anche un ruolo e una continuità di quello che può essere la funzione dell'ospedale, perché ad esempio noi abbiamo in associazione due fisioterapiste che fanno l'infodrenaggio, un'altra fa ginnastica dolce. Sono due fisioterapiste che lavorano nell'ambito dell'azienda ospedaliera e fanno da noi volontariato, quindi vengono veramente senza niente, vengono due volte alla settimana e lì possiamo offrire alle donne di un servizio che l'ASUR non riesce a dare, perché ha dei tempi molto lunghi di attesa, facciamo soprattutto l'infodrenaggio per le donne che hanno subito l'esportazione di linfonodi ascellari, quindi hanno il problema del braccio che si gonfia, del braccio che non riescono a muoverlo bene e quindi questo servizio noi lo offriamo. In più offriamo tanta solidarietà, perché ovviamente chi è passato e chi viene da noi ha quel conforto. La cosa che mi dispiace è che abbiamo tante diverse ragazze giovani e questo sinceramente è una cosa che mi angoscia molto, infatti per questo e con il dottor Mattioli vogliamo veramente dare anche il prossimo anno, cercare di poter fare una cosa come abbiamo fatto quest'anno, proprio per dare la possibilità alle ragazze che non rientrano nello screening, perché non hanno più di 50 anni, per quelle che hanno meno di 50 anni, di poter fare qualcosa. Dottor Mattioli, allora però facciamo anche un focus su questa patologia che ha comunque nel panorama dei tumori che possono colpire la donna ancora un'altissima incidenza. Sì, il dato purtroppo è vero, il tumore della mammella è la maggior causa di malattia oncologica per il sesso femminile e rimane ancora la maggior causa di mortalità per patologia oncologica sempre nel sesso femminile, però i dati sono confortanti, perché? Perché anche se registriamo un leggero trend di aumento dell'incidenza della malattia, noi registriamo da dati epidemiologici nazionali un notevole calo della mortalità, quindi ci si può ammalare di più, ma sicuramente si muovere tanto di meno e questo a che cosa? A la prevenzione, all'impatto delle terapie ormonali, delle chemioterapie degli anni 80, degli anni 90 e alle terapie biologiche degli ultimi 5-10 anni che come dicevo prima hanno permesso di capire dopo delle conoscenze biologiche e anche di biologia molecolare, quale tipo di tumore della mammella noi abbiamo di fronte e qual è la cura. Una volta avevamo una sola cura, adesso abbiamo vari farmaci, vari ormoni, varie linee di terapia ormonale, varie chemioterapie e varie sequenze di farmaci biologici a bersaglio molecolare in una determinata tipologia di tumore della mammella. Abbiamo fatto grossi passi avanti, riusciamo a avere una sopravvivenza che supra il 90%, per cui su 100 donne che si ammalano più di 90 guariscono da questa malattia. Vorremmo guarirle tutte, questo ancora non ci è permesso, la scienza medica non è riuscita a coprire questa fetta di insuccessi, la stiamo riducendo, la speranza che si possa arrivare sempre più vicino al risultato della guarigione. È un po' la sfida di tutta l'oncologia che vede nel tumore della mammella un po' la punta di diamante, sia perché sulla ricerca sono anni che si studia per cui si sono riusciti ad ottenere maggiori risultati, sia per l'impatto emotivo che questa patologia ha nella società. Noi tutti abbiamo una mamma, noi tutti abbiamo una moglie e quasi tutti abbiamo una figlia, per cui voi capite che non è solo un problema di salute, ma è un problema che coinvolge la donna, ma l'intera famiglia in cui la donna vive. Come oncologia di Fano, e questo ci tengo a ribadirlo, ho sempre voluto caratterizzare un po' l'oncologia, oltre all'umanizzazione dell'assistenza, e chi ci conosce questo lo può apprezzare, anche nella ricerca clinica e abbiamo lasciato un grosso spazio alla ricerca clinica in ambito mammario per la patologia tumorale. Da anni l'oncologia di Fano, che voi sapete è un centro piccolo, noi non siamo una grande città, però fa parte di gruppi cooperativi internazionali, è l'unico centro della regione Marchi che è affiliato all'International Breast Cancer Study Group, che è il gruppo cooperativo di ricerca clinica più importante d'Europa nell'ambito del tumore della mammella. Grazie a questa collaborazione noi siamo riusciti ad ottenere dei farmaci sperimentali, per cui apporci allo stesso livello con altri centri, che sono un po' definiti santuari di riferimento per la patologia oncologica, e direi che in questo abbiamo fatto un buon servizio alla nostra collettività. Però, come dicevo prima, curare è importante, curare sempre con maggiore attenzione, con maggiore efficacia è molto importante, però voglio dire che è altrettanto importante diagnosi precoce e prevenzione, e quindi ritorniamo un po' al discorso iniziale. Vede, l'oncologia è una disciplina molto particolare, per molti potrebbe essere considerata una patologia frustrante, per noi che un po' ne facciamo la vita lavorativa di tutti i giorni è una profonda passione, è un percorso che noi definiamo a tutto tondo, noi possiamo ereditare un paziente del territorio, un paziente che è sintomatico, quindi che sta bene, che è sintomatico, non ha problemi, lo possiamo curare per varie fasi della malattia e poi, anche se non è per tutti, per qualcuno c'è un ritorno al territorio per le fasi della terminalità. Quindi il nostro percorso è un percorso che abbraccia veramente anni, noi entriamo nella vita delle famiglie, dei nostri malati, come i nostri malati entrano nelle nostre, nelle nostre. Un medico può far tanto per la propria paziente, ma direi che è grande quello che le donne fanno tra di loro, perché purtroppo un medico parla di quello che ha letto, di quello che ha studiato, di quelle che sono le conoscenze, delle volte può vivere o non può vivere in propria persona un'esperienza di una patologia oncologica. Ma le donne operate al seno che purtroppo la vivono, quando hanno la possibilità di confrontarsi con altre donne, hanno uno spirito di aiuto e questo è importante, perché nella propria vita di ciascuno di noi ci sono dei momenti bui, dei momenti buoni, dei momenti meno buoni e avere un aiuto di fuori della famiglia, ma di una donna che ha vissuto le tue stesse esperienze, le tue stesse emozioni di aiuto nei momenti in cui non buoni, direi che è un ausilio importante e direi che è un servizio che veramente le donne fanno alla collettività e tra loro stesse, quindi questo per me è una cosa incommiabile. Il rammarico qualche volta qualcuna di queste donne ci lascerà, però dobbiamo continuare sempre ad andare avanti perché altre arriveranno e altre dovranno raccogliere questo testimone nel prevenire questa malattia e nel combatterla in tutti i fronti, in tutte le occasioni. Mi rimane solo di fare gli auguri, gli auguri di Buon Natale a tutte le nostre pazienti, i uomini e donne, a tutta l'utenza che viene quotidianamente all'oncologia di Fano per necessità, ma a tutti i cittadini e tutti gli ascoltatori della vostra trasmissione che vedo sempre sensibile non solo a raccogliere dei notizi, purtroppo di cronaca nera, in questi giorni ne abbiamo sentiti tantissimi, che è doveroso trasmettere, ma anche dei messaggi positivi come l'associazione Fiori di Loto sta dando alla città intera e alla provincia di Peso Rombino. La prevenzione resta il primo strumento per combattere il carcinoma mammario.